ScalaPay è una soluzione di pagamento rateale integrabile con i siti e-commerce Reedy Pro che consente ai propri clienti di ricevere immediatamente i prodotti e pagare in tre rate uguali con scadenza mensile. In questa video guida vedremo come installare e configurare il plugin ScalaPay e come funziona l'integrazione con i siti e-commerce Reedy Pro. Per installare il plugin di pagamento ScalaPay sui siti e-commerce Reedy Pro procediamo attraverso la gestione template nella sezione template e plugins. Il plugin ScalaPay si trova nella sezione plugin di pagamento a rate Dopo aver installato il plugin occorre creare il nuovo tipo di pagamento ScalaPay nella tabella pagamenti del gestionale. Fatto questo andiamo ad associare il plugin ScalaPay al relativo pagamento attraverso la sezione pagamenti nella gestione template. A questo punto possiamo configurare alcune limitazioni richieste dal servizio in particolare limitiamo l'uso di questo pagamento solo per i clienti delle nazioni in cui attivo il servizio. Ultimo parametro da impostare è quello dell'importo minimo e massimo consentiti da ScalaPay così che il simulatore della rata venga visualizzato nella scheda prodotto e nel carrello solo se il prezzo dell'articolo è compreso entro i limiti indicati. Dopodiché andiamo ad inserire la secret key che viene fornita al merchant direttamente dal back office di ScalaPay al momento dell'iscrizione. abilitiamo anche la visualizzazione della simulazione rata nella scheda prodotto e nel carrello in modo da permettere all'utente una rapida valutazione sul finanziamento del prodotto che sta per acquistare. Dopo aver eseguito una sincronizzazione completa del sito possiamo verificare il funzionamento del plugin ScalaPay all'interno del sito e-commerce Accedendo ad una scheda prodotto del nostro sito e-commerce Reedy Pro notiamo la presenza del servizio di pagamento a rate ScalaPay che permette al cliente una rapida valutazione del finanziamento. Cliccando sul pulsante informazioni si accede ad una lightbox che illustra i passi salienti da compiere per l'utilizzo del servizio di pagamento rateale di ScalaPay. Dopo aver inserito i prodotti nel carrello l'utente avrà la possibilità di selezionare il tipo di pagamento rateale ScalaPay tra quelli selezionabili dalla lista. Il pagamento ScalaPay è selezionabile solo nel caso in cui il totale del carrello sia compreso nei limiti minimi e massimi che abbiamo impostato nella configurazione del plugin. In fase di conferma finale dell'ordine l'utente verrà reindirizzato automaticamente sul sito web di ScalaPay per per professionare la pratica di finanziamento per l'acquisto degli articoli. Qui il cliente dovrà innanzitutto creare un nuovo account inserendo il proprio numero di cellulare. Dopodiché dovrà digitare il codice di conferma che riceverà via sms e successivamente confermare. Nella pagina successiva che mostra all'inizio un riepilogo delle rate da pagare verrà chiesto al cliente di inserire la propria data di nascita e di selezionare il metodo di pagamento. Nel nostro esempio verrà scelto il metodo carta di credito inserendo poi i dati della carta. A questo punto la registrazione è completata ed è possibile confermare contestualmente il pagamento della prima rata. Dopo che il pagamento verrà processato e accettato da ScalaPay il cliente sarà reindirizzato sul sito e-commerce di origine e riceverà un'email di conferma dell'acquisto. Grazie per la visione!